In questo video scopriamo e studiamo che le corsie possono essere anche di accelerazione. Che cos'è una corsia di accelerazione? È una corsia che facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada. Quindi servono per permetterti di entrare o in autostrada o nelle strade extraurbane principali. Quindi che cos'è una corsia di accelerazione? È una corsia utilizzata che ha lo scopo di farti inserire, permetterti di entrare in una carreggiata. Per esempio un'autostrada o una strada extraurbana principale.